Trofeo Guidelli edizione 2017, anche quest'anno caro Presidente, numeri da record, però io vorrei aprire questo speciale ricordando questo luogo dove ci troviamo e che cosa avete vissuto insomma qualche mese fa, più o meno a luglio dell'anno scorso, perché questo è veramente un miracolo. Esatto, è stato il leitmotiv di questa manifestazione, anche se ce ne sono già state altre, vedere questo palasporto riportato alla luce con tante persone dentro, con tutte queste manifestazioni, specialmente ovviamente la nostra, ci ha fatto pensare per quei giorni bui che pur essendo luglio abbiamo sofferto tantissimo. E vedere questa struttura riportata alla luce che funziona e funziona veramente per tutta la città, non solo per la SBA, è sicuramente un motivo d'orgoglio. Allora i numeri li ricordo io, sono otto i palasport dove i ragazzi del trofeo hanno giocato, 700 atleti, quasi 2000 persone, quindi insomma il turismo sportivo ad Arezzo può funzionare. Sì, noi da anni che continuiamo a sostenere questa tesi, diciamo che ce ne sono di manifestazioni che le società sportive organizzano, ma molte sono di un giorno solo, quindi il famoso tocchefuggi è un turismo un pochino stretto. Noi siamo riusciti da tre anni a mantenere ad Arezzo per tre giorni, questa volta anche quattro qualcuno, circa diciamo 2000 persone. Questo credo che sia una risorsa veramente non solo per lo sport e per le società o per noi poco, ma più che altro è il fatto di... Io vi potrei far parlare con Walter Magnifico, un grandissimo giocatore di pallacanestra, mi ha detto ieri, io nel mio curriculum ho visitato tantissime città ovviamente, Arezzo purtroppo non l'avevo mai vista perché non c'era una squadra di basket di quelle dimensioni, ha detto io oggi sono stato ad Arezzo, è una città bellissima, aveva quasi gli occhi lucidi. Ecco, queste sono secondo me le cose più belle per un aretino vero, cioè perché allora lì spunta l'orgoglio di aver fatto una cosa vera sia per la tua società ma anche per la città. Ecco, quest'anno avete inserito questa novità dell'hashtag, quindi il trofeo che diventa comunque anche social, un modo di comunicare con i più giovani, con i giovanissimi, insomma sicuramente molto originale. Ma lo spirito del trofeo è sempre lo stesso, quello di comunicare la sportività, la realtà verso gli avversari, tant'è che in questa serata che noi andremo a vedere, a premiare questi ragazzi, insomma tutti saranno allo stesso livello, non ci sarà primo, secondo e terzo posto almeno stasera. Per stasera noi non cambiamo la formula anche per quest'anno, questa sera saranno premiati tutti gli atleti come sempre, né primi né secondi né terzi, domani chi farà le finali arriverà primo, avrà il proprio trofeo, però la cornice e diciamo la politica della nostra società e del nostro torneo deve essere almeno per questo torneo la solidarietà e l'amicizia fra ragazzini di quell'età di tutta Italia. Questa è sempre stata e spero di poterla portare avanti il più possibile. Il vostro main sponsor che è Amen, insomma quest'anno ha fatto uno sforzo un pochino più grande rispetto agli anni passati. Esattamente, quest'anno Giovanni Licastro, l'amministratore dell'Amen, ha pensato ad una creazione, un piccolo gioiellino da regalare ai ragazzetti che verranno premiati questa sera, un gioiellino firmato Amen relativo proprio alla pallacanestro, quindi mi inginocchio quasi di fronte a questa sua cosa perché è veramente un bellissimo pensiero. E non dimentico anche il secondo sponsor che è Illuminati che regalerà a tutti i genitori, diciamo le persone che verranno qua questa sera, un prodotto tipico del nostro territorio che sono le mele della Val di Chiana perché volevamo far sentire anche un po' il sapore della nostra terra. Ecco il trofeo Guidelli ovviamente riguarda i giovani, i giovanissimi, però parliamo anche di questa prima squadra. È stato un bel campionato, diciamocelo, magari chiuso con un pizzico di amarezza. Allora, la cosa brutta è che, diciamo, negli ultimi partiti le abbiamo perse, no? Però sembra di trovare una scusa, ma io ti posso dire con estrema sincerità che l'obiettivo nostro di questa squadra era stato dato fin dall'inizio, era quella di evitare i play-out, cioè di arrivare i quintultimi. Per una serie di coincidenze, di fortune, ci siamo trovati nell'inizio del campionato secondi, quasi primi. Abbiamo battuto in casa la Labronica Livorno, come dire nel calcio che Ceciliano battesse la Juventus. È chiaro che ti fai dei sogni, però poi alla fine la realtà è diversa. Quindi ritorni a... e quindi ecco c'è stato da quella partita un po' una sorta di appagamento e che, messo anche un po' un problema tecnico, diciamo che ci ha riportato coi piedi per terra. Ma comunque nessuno di noi si aspettava un sesto posto. Magari una cosa bella è stata fatta quest'anno. Il mio progetto, che è quello di costruire, fra virgolette, giocatori giovani e farli partire per le grandi società, beh, oggi comincia a dare i primi frutti anche dal punto di vista sportivo, perché proprio ieri la nostra squadra Under 15 eccellenza ha vinto la Coppa Toscana e quindi siamo la quinta squadra in Toscana. Penso che Arezzo non c'era mai stata. Ecco, questo è importante. Bene, insomma, grande soddisfazione da parte del Presidente Castelli e anche da parte nostra, che insomma seguiamo ormai da tanti anni questa squadra. Adesso vi facciamo vedere le premiazioni dell'Under 14, una dietro l'altra. Tra l'altro c'è una parte scenografica molto bella. Poi ci ritroviamo per un'altra intervista, questa volta con Umberto Vezzosi. A dopo. Un'altra intervista, questa volta con Umberto Vezzosi. Eccoci di nuovo nel corner intervista del nostro speciale dedicato al trofeo Guidelli 2017. Siamo in compagnia di Umberto Vezzosi, responsabile del settore giovanile della SBA. Ormai da due anni si appresta la terza stagione. È un punto di orgoglio, lo sappiamo da parte del Presidente, questo lo dico io, non lo facciamo dire. È una parte mia di essere a Arezzo. Allora, iniziamo subito parlando del trofeo, che dà un messaggio di sport importantissimo a questi quasi 700 atleti che vigareggiano. Sì, io lo scorso anno l'ho potuto seguire poco perché ero impegnato con gli Under 15 a uno spareggio a Roma. Quest'anno l'ho potuto seguire di più e ho visto una grandissima organizzazione, tanti ragazzi, gente entusiasta. Io ho sentito commenti in tribuna dopo le partite, durante le partite tutti si complimentavano con l'organizzazione. Credo sia un grande successo non solamente per la SBA come società ma anche per la città d'Arezzo perché comunque questo torneo porta tanta gente, quindi credo anche per le strutture, per gli alberghi, gli ristoranti e per tutte le cose e aiuta a conoscere anche un territorio molto bello perché io sono il primo a dire che ero un po' ignorante, non conoscevo molto il territorio di Arezzo e invece è un territorio bellissimo, pieno di tante belle cose, pieno di persone che hanno voglia di fare, quindi credo che questo torneo chiuda questa nata agonistica nel migliore dei modi. Ecco, c'è un grandissimo successo che è arrivato tra l'altro poche ore fa con l'Under 15, i campioni toscani. Sì, va bene, abbiamo vinto la Coppa Toscana, quindi praticamente ci siamo guadagnati l'accesso al campionato d'eccellenza per il prossimo anno, era una cosa non scontata ma la cosa più bella, a parte il risultato finale, chiaramente conta, ma sono le 13 vittorie consecutive che noi abbiamo fatto, quindi praticamente nel 2017 siamo imbattuti e peccato che sia finito adesso il campionato perché credo che adesso saremmo stati in grado di giocarcela anche con le squadre che sono arrivate prima di noi e che adesso vanno a giocare per le finali nazionali. Però bisogna anche dire che all'inizio non eravamo pronti perché venivamo da una stagione dove le cose non erano andate tanto bene. All'inizio abbiamo un po' stentato ma i ragazzi sono tutti impegnati molto e alla fine credo che abbiamo ottenuto un grande risultato. Voglio ringraziare chiaramente tutti i ragazzi, tutti i 2002 e anche i 2003 che ci hanno dato una mano. Voglio ringraziare il mio assistente Marco Tavanti, la mia accompagnatrice Melitta Viti, lo staff qui della SBA, tutti i preparatori atletici, è veramente stato un successo di squadra. Lei che sicuramente ha un po' il quadro anche nazionale di questo sport, sta crescendo ad Arezzo, soprattutto in Toscana? Allora, diciamo la Toscana è sempre stata una regione all'avanguardia per quanto riguarda il basket. sì, diciamo Sena-Livorno principalmente, poi è andata dietro Pistoia, Montegatini e compagnia bella. Arezzo probabilmente non che fosse indietro perché la tradizione per esempio della zona di San Giovanni Val d'Arno e così via, però magari io ho trovato una mentalità un pochettino diversa, no? e quindi la prima cosa che stiamo cercando di fare, stiamo cercando di cambiare un po' la mentalità. Cioè, qui c'era un po' più la mentalità che comunque tutti i ragazzi devono giocare, cioè è chiaro che tutti devono giocare, tutti siano a divertire, ma se si vuole fare uno sport e crescere anche un po' di livello, come succede nella vita di tutti i giorni, come succede nella scuola, anche nello sport c'è chi è più pronto all'inizio, chi è un po' meno pronto, ma chi è meno pronto non è che deve avere problemi perché può essere meno pronto ora, ma può essere più pronto dopo, quindi se si impegna, lavora, anche se gioia un po' meno, ma credo che alla fine si toglieranno le proprie soddisfazioni, quindi secondo me bisogna fare un passo avanti sulla mentalità, però penso che ce la faremo bene. Grazie a tutti. Due grandi ospiti di questo trofeo Guinelli 2017 sono stati Augusto Binelli e Walter Magnifico, chi insomma ama il basket sa benissimo di chi parliamo. Allora vi facciamo sentire quello che hanno detto proprio durante la premiazione, poi ci vediamo la premiazione dell'Under 12. intanto buonasera a tutti e grazie per i miei ragazzi e per me è stata un'esperienza fantastica, ringrazio per l'organizzazione perfetta. Il Presidente ha sentito? Grazie Presidente. Ah, eccole là, ah caspita, questa è una sorpresona, ma il Presidente quest'anno ha proprio esagerato. Ecco queste sono le immagini di quando poi, quindi insomma vi ha fatto una bella, un po' di nostalgia, una bella nostalgia però, una bella nostalgia. Comunque, per quanto ci riguarda, ecco, ecco, io con Gus abbiamo vissuto un'esperienza fantastica perché era alla conclusione dei mondiali dei campionati del mondo del 1986 in Spagna, coach Mike Fratello degli Atlanta Hawks, lui era stato scelto nel draft per l'Atlanta e io sono stato invitato a provare, abbiamo passato dieci giorni fantastici in America, è stata una bella esperienza. E poi quando ho giocato, ho giocato un anno con lui alla Virtus Polonia dopo averne giocato il 19 a Pesaro, è stato un piacere, ma quando giocavo contro di lui era difficile da superare, con questa fortezza sembrata, per far canestro bisognava far canna fatica. Buonasera a tutti, voglio fare anche io i complimenti, ma sotto la Presidente per l'organizzazione del torneo. Come ha detto lui, gli scontri non erano dei più facili, anche per me, perché quando sei sotto canestro una buottarella di qua, una buottarella di là, ci si diverte sempre, ed è sempre un po' difficile. Poi quando è stato un anno con me a giocare, a Bologna stiamo giocati insieme, le botte sono state tutti i giorni. Prima erano due volte all'anno, dopo erano tutti i giorni. Bene, io mi metterei vicino a loro, guarda, se mi fai questa foto nella mia carriera sarà una roba memorabile, veramente memorabile. Grazie. 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 Grazie, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti i giorni. io devo inginocchiarmi e ringraziare i 40 volontari della SBA che in tutti questi tre giorni dalle 6 la mattina fino alle 8 di sera costantemente si sono alternati a fare i responsabili di campo non è una cosa facile organizzare un evento di queste dimensioni la cosa importante è che il nostro palazzetto, la nostra società e in particolar modo la città di Arezzo abbia usufruito del basket in questo momento per avere risorse per quanto riguarda il turismo perché ricordiamo tre giorni ad Arezzo, 1600 persone, forse anche 1700 credo che non ci sia evento che è paragonabile